Melma, Chekhov Nel gran cortile della fabbrica di vodka, successori di M. E. Rothstein, dondolandosi graziosamente in sella, entrò un giovanotto in tunica di ufficiale, candida come la neve. Il sole sorrideva spensierato sulle stellette del tenente, sui tronchi bianchi del betulle, sui mucchi in frantumi di vetro sparsi qua e là per il cortile. Su ogni cosa era posata la luminosa, sana bellezza della giornata estiva e nulla impediva alla giovane verdura piena di succhi di tremolare lietamente e di scambiare a micchi col limpido cielo azzurro. Perfino l'aspetto sporco, affumicato delle rimesse dai muri di mattoni e l'odore soffocante dell'alcol non rettificato non guastavano la buona disposizione generale. Il tenente saltò allegramente giù di sella, consegnò il cavallo a un servitore a corso e, lisciandosi con un dito i sottili baffetti neri, entrò per la porta principale. Proprio sull'ultimo gradino di una scala vetusta, ma chiara e coperta di un tappeto, lo accolse una cameriera dal viso non più giovane, un po' altero. Il tenente le porse in silenzio il suo biglietto da visita. La cameriera, andando verso le stanze col biglietto, poteva leggere «Alexandre Griegorievicz Soloski». Di lì a un minuto tornò e disse al tenente che la signorina non poteva riceverlo perché non si sentiva del tutto bene. Soloski guardò il soffritto e sporse in avanti il labbro inferiore. «È spiacevole», disse egli. «Ascoltate, mia cara», prese a parlare vivacemente. «Andate a dire a Susanna Moiseyevna che io ho un gran bisogno di conferire con lei». «Un gran bisogno!» «La tratterrò solo un minuto, mi scusi». La cameriera alzò una spalla e andò pigramente dalla signorina. «Bene», sospirò, tornata poco dopo. «Favorite». Il tenente, seguendola, attraversò cinque o sei grandi stanze. Lossosamente arredate è un corridoio e alla fine si trovò in una spaziosa stanza quadrata dove sin dal primo passo lo colpirono un'abbondanza di piante in fiore e un profumo dolciastro di gelsomino, intenso fino alla nausea. Fiori disposti a spalliera si stendevano lungo le pareti, nascondendo le finestre. Pendevano dal soffitto, si attorcigliavano negli angoli, cosicché la stanza somigliava più a una serra che a un luogo di abitazione. Capinere, canarini e cardellini svolazzavano pigolando in mezzo al verde e battendo contro i vetri delle finestre. «Perdonatevi, prego, se vi ricevo qui», udì il tenente una pastosa voce femminile che biascicavano senza grazia il suono R. Ieri avevo l'emicuania e perché oggi non si ripeta cerco di non muovermi. Che cosa volete? Proprio di fronte all'ingresso, in una gran poltrona da vecchi, con la testa rovesciata all'indietro su un cuscino, era seduta una donna con addosso una vestaglia cinese di prezzo e il capo imbaccuccato. Sotto un fazzoletto di seta, annodato, erano visibili soltanto un naso lungo, pallido, con la punta a guzza e lievemente arcuato e un grande occhio nero. L'ampia vestaglia celava la statura e le forme di lei, ma dalla mano bianca e bella, dalla voce, dal naso e dall'occhio non si potevano darle più di ventisei o ventotto anni. «Perdonate se sono così insistente», incominciò il tenente facendo tintinnare gli speroni, «ho l'onore di presentarmi, Sokolovski. Sono venuto per incarico di mio cugino e vostro cugino, Alexei Ivanovich Kruikov, il quale... «Ah, lo conosco», interruppe Susanna Moiseyevna. «Lo conosco, Kruikov. Sedete. A me non piace che mi stia davanti qualcosa di grosso». «Mio cugino mi ha incaricato di pregarvi di un favore», continuò il tenente, facendo un'altra volta tintinnare gli speroni e mettendosi a sedere. «Il fatto è che vostro babbo, buonanima, aveva comprato quest'inverno da mio cugino dell'Avena, restandogli debitore di una piccola somma. Le cambiali scadranno solo tra una settimana, ma mio cugino vi prego vivamente di dirmi se non potreste pagare questo debito oggi stesso». Il tenente parlava e intanto gettava occhiate in tralice all'intorno. «Ma sarai forse nella stanza da letto?» pensava. «In un angolo della stanza, dove la verdura era più fitta e più alta, sotto un baldacchino rosa che pareva un baldacchino funebre, stava un letto in disordine, non ancora rifatto. Pure lì, su due poltrone, giacevano mucchi di vesti femminili spiegazzate. Dembe di gonne e maniche, con pizzi e volanti sgualciti, pendevano su un tappeto, sul quale biaccicavano qua e là delle fettucce, due o tre mozziconi di sigarette, delle cartine di caramelle. Di sotto al letto occhieggiavano le punte ottuse e aguzze di una fila di pantofole d'ogni sorta. Al tenente pareva che lo stucchevole odore di gensomino venisse non dai fiori, ma dal letto e dalla fila di pantofole. «E per quale somma le cambiali?» domandò Susanna Moiseyevna. «Per due mila trecento?» «Oh oh!» disse l'Ebrea, mostrando anche l'altro grande occhio nero. «E voi dite che è poca cosa?» «Del resto fa lo stesso, pagare oggi o tra una settimana, ma in questi due mesi dopo la morte di mio padre ho avuto tanti di quei pagamenti, tanti stupidi sopraccapi che la testa mi gira. Scusate tanto, ho bisogno di andare all'estero e mi obbligano a occuparmi di queste sciocchezze. La vodka, l'avena si mise a borbottare chiudendo gli occhi a mezzo. L'avena, le cambiali, le percentuali, o, come dice il mio impiegato anziano, le pru-centuali. C'è orribile! Ieri scacciai addirittura quello del Dazio. Mi si appiccicava col suo traller. Io gli dico, andatevene al diavolo col vostro traller. Non ricevo nessuno!» Gli baciò la mano e andò via. «Ascoltate, non può vostro cugino aspettare due o tre mesi?» «Domanda crudele», risa il tenente. «Mio cugino può aspettare anche un anno, ma sono io che non posso aspettare. Vedete, bisogna che ve lo dica. È per me stesso che mi do attorno. Mi occorre qualunque costo del denaro e mio cugino, come a farlo apposta, non ha un rublo disponibile. Tocca per forza andare in giro a raccogliere i crediti. Oggi sono stato dal fittavolo. Adesso, ecco, sono da voi. Uscito di qui, andrò ancora in qualche altro posto e così via, finché non avrò messo insieme cinquemila rubli. Ho un tremendo bisogno di denaro. Basta! Perché cosa occorre denaro a un giovanotto? Capricci? Capestrerie? E che? Avete speso tutto in baldorie? Avete perduto il gioco? Vi sposate? Avete indovinato, disse il tenente, e sollevandosi leggermente fece tintinare gli speroni. In realtà, mi sposo. Susanna Moiseyevna guardò fissamente il visitatore, fece un viso agro e sospirò. Non capisco che voglia abbia la gente di sposarsi, disse cercando attorno a sé il fazzoletto da naso. La vita è tanto breve, si ha così poca libertà e vanno anche a legarsi. Ciascuno ha il suo modo di vedere. Sì, certo, ognuno ha il suo modo di vedere, ma ascoltate, forse che voi sposate una povera per passione e perché vi occorrono proprio cinquemila rubli e non quattro, non tre. Che lingua lunga, però, pensò il tenente e rispose, la storia è questa, che per legge un ufficiale non può sposarsi prima dei ventotto anni. Se ci si vuole sposare, bisogna o lasciare il servizio o depositare cinquemila rubli di cauzione. Ah, capisco adesso. Ascoltate, voi avete detto ora che ciascuno ha il suo modo di vedere. Forse la vostra fidanzia pensate è una persona speciale, egregia, ma proprio non capisco come un uomo rispettabile possa vivere con una donna. Non lo capirei nemmeno se mi ammazzaste. Sono al mondo ormai ringraziando il Signore da 27 anni, ma non una volta in vita mia ho veduto una sola donna sopportabile, tutte marierate, immorali, bugiarde. Io sopporto soltanto le cameriere e le cuoche, ma le cosiddette donne per bene non le lascio venire nemmeno a un tiro di fucile. E grazie a Dio loro stesse mi odiano e non si intruffolano da me. Se una di loro ha bisogno di denaro manda il marito, ma non verrà a nessun costo. Non per orgoglio, no, ma semplicemente per vigliaccheria. Ha paura che le faccia delle scene. Io capisco benissimo il loro odio, sfido. Io metto sinceramente in vista ciò che esse con tutte le forze cercano di nascondere a Dio e agli uomini. Come dunque non odiarmi? Di sicuro ve ne hanno già dette sul conto mio un sacco e una sporta. Io sono arrivato qui così da poco tempo che ma 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 lo vedo dai vostri occhi e forse che la moglie di vostro fratello non vi ha munito di un viatico la sera andare un giovanotto da una donna così orrenda e non metterlo in guardia. Com'è possibile? Ma sentite come sta vostro fratello? È un giovane in gamba un così bell'uomo l'ha veduto diverse volte alla messa. Perché mi guardate così? Io vado in chiesa spessissimo. Tutti hanno un solo Dio per la persona istruita non tanto importa l'esteriorità quanto l'idea non è vero. Sì certo sorrisa il tenente sì l'idea ma voi non somigliate per nulla a vostro fratello anche voi siete bello ma vostro fratello lo è ben di più fa meraviglia quanta poca è la la somiglianza non è strano noi non siamo mica fratelli ma si cugini sì è vero così i denari vi occorrono proprio oggi perché oggi? A giorni scade la mia licenza beh che fare con voi sospirò Susanna Moiseevna sia pure così vi darò il denaro benché sappia che poi inveirete contro di me litigherete con la moglie dopo le nozze e direte se quella rognosa di una giudea non mi avesse dato il denaro forse adesso sarei libero come un uccello è bella la vostra fidanzata sì non c'è male è pur sempre meglio qualcosa non fosse che la bellezza di nulla del resto nessuna bella donna può compensare il marito della propria vacuità questo è originale riseltenente voi stessa siete una donna e siete così misogina non soghignò Susanna ho colpa io forse se Dio mi ha dato un simile involucro di questo ho colpa io come voi del fatto che avete i baffi non dipende dal violino la scelta dell'astuccio io voglio molto bene a me stessa ma quando mi si ricorda che sono una donna comincio ad odiarmi beh andate via di qua io mi vestirò aspettatemi in salotto il tenente uscì e per prima cosa respirò profondamente per liberarsi del grave profumo di gelsomino che già cominciava a dargli il capogiro e a fargli il solletico in gola era stupito com'è strana pensava guardandosi attorno parla con facondia ma un po' troppo e troppo sinceramente una qualche psicopatica il salotto in cui stava adesso era arredato riccamente con pretese di lusso e di moda c'erano lì dei piatti scuri di bronzo a rilievi vedute di nizza e del reno sui tavolini candelieri antichi sui muri statuette giapponesi ma tutte queste pretese di lusso e di moda mascheravano soltanto quella mancanza di buon gusto che i cornicioni dorati la tapezzeria a fiorami le tovaglie di velluto di color chiaro le cattive oleografie in cornici pesanti spietatamente proclamavano la mancanza di gusto era completata da quell'aspetto di incompiutezza e di eccessivo affollamento che fa sembrare che qualcosa manchi e che molte cose andrebbero eliminate si poteva scorgere che tutto l'arredamento non era stato procurato in una sola volta ma a spizzico attraverso occasioni e liquidazioni vantaggiose il tenente stesso non possedeva di osacche buon gusto ma anche egli si accorse che tutto l'arredo recava in sé una caratteristica che non si può cancellare né con lusso né con la moda e precisamente la mancanza di qualsiasi traccia di mani femminili di quelle mani della padrona di casa che come è noto conferiscono all'assetto delle stanze una sfumatura di calore di poesia e di comodità lì aspirava un senso di freddo come nelle sale delle stazioni nei circoli e nei ridotti dei teatri di propriamente ebraico nella stanza non c'era quasi nulla salvo forse un unico grande quadro che raffigurava l'incontro di Giacobbe con Isacco il tenente si guardava in giro e stringendosi nelle spalle pensava alla sua nuova strana conoscente alla disinvoltura e al suo modo di parlare ma ecco che si aprì l'uscio e sulla soglia comparve lei in persona slanciata con un lungo abito nero che le faceva una vita fortemente serrata come tornita adesso poi il tenente le vedeva non solo il naso e gli occhi ma anche il viso bianco e magro e la testa ricciuta come un agnellino e la non gli piacque pur non essendogli parsa brutta in realtà contro i visi non russi egli nutriva un preconcetto e in quel caso inoltre fu d'avviso che ai riccioli neri e alle folte sopracciglia della padrona di casa non si adicesse affatto il biancore del viso che gli ricordava chissà perché lo stucchevole profumo di gelsomino e che le orecchie e il naso fossero di un pallore stupefacente come quelli di un morto o come i fusi in una cera diafana avendo sorriso ella insieme coi denti mise in mostra anche le pallide gengive cosa che neppure gli piacque clorosi egli pensò probabilmente è nervosa come una tacchina eccomi anch'io andiamo disse ella camminando rapida dinanzi a lui e strappando nell'andare le foglie gialle delle piante di fiori vi darò subito il denaro e se volete vi offrirò la colazione 2300 rubli dopo un così buon affare mangerete con appetito vi piacciono le mie stanze le signore di qui dicono che da me c'è odore di aglio in questa spiritosaggine da cucina si esaurisce tutta la loro arguzia mi affretto ad assicurarvi che dell'aglio io non ne tengo nemmeno in cantina e quando una volta venne a visitarmi un dottore che mandava odore d'aglio lo pregai di prendere il cappello e di andare a olezzare in qualche altro posto da me c'è odore non di aglio ma di medicina mio padre giacque paralitico per un anno e mezzo e profumò di medicinali tutta la casa un anno e mezzo e lo rimpiango ma sono contenta che sia morto tanto ebbe a soffrire e la guidò l'ufficiale attraverso due stanze che somigliavano al salotto poi attraverso una sala e si fermò nel proprio studio dove c'era una piccola scrivania per signora tutta coperta di ninnoli accanto ad essa su un tappeto erano buttati alcuni libri aperti con le pagine piegate metteva fuori dello studio un piccolo uscio dal quale si vedeva una tavola apparecchiata per la colazione senza smettere di chiacchierare Susanna cavò di tasca un mazzo di piccole chiavi e aprì un certo complicato armadietto dal coperchio curvo inclinato quando il coperchio si sollevò l'armadietto modulò una melodia lamentosa che ricordava al tenente l'arpa di Eolo Susanna scelse nel mazzo un'altra chiave e fece scattare una seconda serratura io qui ho dei passaggi sotterranei e delle porte segrete disse prendendo un piccolo portafoglio di marocchino un armadio buffo non è vero e in questo portafoglio c'è un quarto del mio patrimonio guardate come panciutello non vi strozzerete mica Susanna alzò gli occhi sul tenente e rise con fare bonario anche il tenente si mise a ridere ma è buona pensò guardando le chiavi correre fra le sue dita eccola disse ella trascegliendo la chiavetta del portafogli su via signor creditore vogliate far venire in scena le cambiali in fondo che sciocchezza è il denaro in genere che cosa è insignificante eppure quanto piace alle donne sapete io sono ebrea fino al midollo delle ossa amo follemente gli shamul e gli yankel ma quel che più mi ripugna nel nostro sangue semitico è la passione del guadagno accumulano e non sanno essi stessi per che cosa accumulino bisogna vivere e godere e loro hanno paura di spendere una copeca di troppo sotto questo aspetto io somiglio più a un ussaro che a uno shmul non mi piace che il denaro le stia lungo in un posto e in genere mi pare io somiglio poco a un ebrea mi tradisce fortemente il mio accento eh come dirvi si strinse in sé il tenente voi parlate correttamente ma biascicate l'erre Susanna si mise a ridere e introdusse la chiavetta nella piccola serratura del portafogli il tenente cavò di tasca un mazzetto di cambiali e lo pose insieme con un tacquino sulla tavola nulla tradisce l'ebreo come l'accento seguitò Susanna guardando con aria gaia il tenente per quanto egli cerchi di scimmiottare il russo o il francese pregatelo di pronunciare la parola push ed egli vi dirà pesce ma io pronuncio giusto push 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 risero tutti e due in verità è una donna eccellente pensò Sokolski Susanna posò il portafogli su una sedia fece un passo verso il tenente e avvicinato il suo volto a quello di lui continuò gagliamente dopo gli ebrai non amo nessuno quanto i russi e i francesi io ho studiato male al ginnasio e non conosco la storia ma mi pare che le sorti della terra si trovino nelle mani di questi due popoli sono vissuta a lungo all'estero perfino a Madrid trascorsi i sei mesi osservai il pubblico a sazietà e ne riportai la convinzione che oltre i russi e i francesi non ci sia un solo popolo come si deve prendete le lingue la tedesca è una lingua da cavalli l'inglese non ci si può figurare nulla di più sciocco feit fit fruit l'italiano è piacevole solo se non si parla ad agio ma se si ascoltano le chiacchierine italiane è la stessa cosa del diargon ebraico dei polacchi dio mio signore non c'è lingua più antipatica né pepsi 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 vespepsia bobosaccia persapisti vespsia pepsen questo vuol dire non mettere pietro del pepe sul porcellino che potresti impepare il porcellino eccessivamente Susanna Mojesievna stranuna gli occhi e si mise a ridere di un riso così buono e contagioso che il tenente guardandola scoppiò in un'allegra e rumorosa risata e la ferrò al visitatore per un bottone e continuò voi certo non amate gli ebrai io non discuto a molti difetti come qualsiasi altro popolo ma forse che gli ebrai ne hanno colpa no non gli ebrai ne hanno colpa ma le donne ebrae sono corte di mente avide senza poesia alcuna noiose voi non siete mai vissuto con un ebrea e non sapete che delizia sia le ultime parole Susanna Mojesievna le pronunziò strascicando senza più animazione né risa e l'attacqua come spaventata dalla propria franchezza e il suo volto si alterò ad un tratto in modo strano e incomprensibile i suoi occhi senza batter ciglio si fissarono sul tenente le sue labbra si schiusero scoprendo i denti serrati su tutto il viso sul collo e perfino sul petto le fremette un'espressione cattiva felina senza distogliere gli occhi dal visitatore e la piegò rapidamente la persona da un dato ed impieto come una gatta afferrò qualcosa sulla tavola tutto ciò fu l'affare di pochi secondi seguendo le mosse di lei il tenente vide cinque dita fare una pallottola delle sue cambiali la carta bianca frusciante balenare davanti ai suoi occhi e sparire nel pugno di lei un così brusco insolito passaggio dal riso bonario al delitto lo colpì talmente che gli impallidì e fece un passo indietro e là intanto senza levargli di dosso gli occhi spaventati e scrutatori si passava il pugno chiuso sull'anca cercando la tasca il pugno si agitava convulsamente come un pesce acchiappato in vicinanza della tasca e nessun modo poteva capitarci dentro ancora un attimo e le cambiali sarebbero sparite nei penetrali del vestito femminile ma a questo punto il tenente gettò un lieve grido e mosso più dall'istinto che dalla ragione agguantò il braccio dell'ebrea vicino al pugno chiuso quella scoprendo anche più i denti chiede uno strattone con tutte le sue forze e svincolò la mano allora Sokolski con un braccio le cinse saldamente la vita con l'altro il seno e fra loro cominciò una lotta nel timore nel timore di offenderne la femminilità e di cagionarle dolore egli cercava soltanto di impedirle i movimenti e di afferrarle il pugno in cui erano le cambiali ma lei come un'anguilla si torceva fra le mani di lui con il suo corpo flessuoso elastico si dibatteva lo colpiva nel petto coi gomiti lo graffiava cosicché le sue mani ricorrevano per tutto il corpo ed egli involontariamente le cagionava dolore e ne offendeva la vera condia che cosa è inconsueta questa che cosa strana egli pensava fuori di sé dallo stupore senza credere a se stesso e sentendo con tutto il suo essere che le dodici il somino gli dava la nausea in silenzio respirando affannosamente urtando dai mobili essi passavano da un posto all'altro Susanna si era infervorata nella lotta si era fatta tutta rossa aveva chiuso gli occhi e una volta fuori di sé si strinse persino fortemente col viso a quello del tenente tanto che sulle labbra di lui rimase un sapore dolciastro finalmente egli le afferrò il pugno avendoglielo disserrato senza trovarci le cambiali lasciò andare l'ebrea rosso in viso con le pettinature scomposte avanzando essi si guardavano a vicenda sul volto dell'ebrea l'espressione cattiva felina fu sostituita poco a poco da un bonario sorriso ella scoppiò a ridere e giratasi su un piede si diresse verso la stanza dove era preparata la colazione il tenente le si trascinò dietro ella sedette a tavola e tutto era rossansante beve mezzo bicchierino di vino di porto ascoltate ruppe il silenzio il tenente poi spero scherzate per nulla risposerai ficcandosi in bocca un pezzetto di pane come volete che io intenda tutto questo come vi cabba sedete a tavola ma è una cosa disonesta volarsi dal resto non datevi la pena di farmi la predica io ho il mio proprio modo di vedere le cose non me le renderete no certo se voi foste un uomo povero disgraziato che non ha da mangiare beh allora sarebbe un'altra fazenda ma a voi è venuta voglia di sposarvi ma questo non è mica denaro mio beh sì di mio cugino è vostro cugino che ha bisogno di denaro per i vestiti della moglie ma per me è proprio indifferente che la vostra belle sir abbia degli abiti o no il tenente non ricordava più di essere in casa altrui da una signora sconosciuta e non faceva cerimonie camminava per la stanza acciliato e nervosamente si stiracchiava al panciotto essendosi l'ebrea col suo atto disonesto abbassato ai suoi occhi egli si sentiva più ardito e più disinvolto il diavolo sa che cos'è questo borbottava sentite io non andrò via di qui finché non avrò ricevuto da voi le cambiali ah tanto meglio risè Susanna restate magari a vivere qui io starò più allegra eccitato dalla lotta il tenente il tenente guardava il viso ridente sfrontato di Susanna e la sua bocca che masticava e il suo petto che respirava fannosamente e si faceva più ardito e più temeradio invece di pensare alle cambiali si mise chissà perché a rammentare con una specie di avidità i racconti di suo cugino sulle avventure romanzesche dell'ebrea sul suo libero tenor di vita e questi ricordi non fecero altro che stuzzicare la sua temerità l'impeto si sedette accanto all'ebrea e senza più pensare alle cambiali si mise a mangiare volete vodka o vino domandava ridendo Susanna così rimarrete qui ad aspettare le cambiali poveretto quanti giorni e quante notti vi toccherà passare da me in attesa delle cambiali la vostra fidanzata non recriminerà? erano passate cinque ore il cugino del tenente Alexei Ivanovich Kruikov con indosso le veste da camera e le pantofole andava su e giù per le stanze della casa di campagna e gettava occhiate impazienti dalle finestre era un uomo alto robusto con una gran barba nera e una faccia virile e come aveva giustamente detto l'ebrea bello della persona pur essendo ormai giunto a quell'età in cui gli uomini ingrassano eccessivamente avvizziscono e diventano calvi per il suo spirito e il suo intelletto egli apparteneva al novero di quelle creature di cui è così ricca la nostra classe intellettuale cordiale e bonario ben educato non estraneo alle scienze alle arti alla fede con le idee più cavalleresche intorno all'onore ma superficiale e indolente gli piaceva mangiare e bere bene giocava in modo perfetto al wind si intendeva di donne e di cavalli ma in tutto il resto era privo di elasticità e tardo come una foca e per farlo uscire dallo stato di quiete si voleva qualcosa di inconsueto di oltremodo rivoltante che allora poi dimenticava tutto al mondo e manifestava un'estrema mobilità vociferava di duello scriveva un'istanza di sette foglie a un ministro caroppava rotta di collo per il distretto dava pubblicamente del farabutto faceva cause e così via come mai il nostro sasce non c'è ancora domandava alla moglie guardando dalle finestre è ora di pranzare dopo aver atteso il tenente fino alle sei i Kruikov sedettero a tavola la sera quando ormai era tempo di cenare Alexia Ivanovic tendeva l'orecchio ai passi allo sbattere degli usci e si stringeva nelle spalle strano diceva quella canaglia di alfiere deve essersi arenato dal fittavolo coricandosi dopo cena Kruikov concluse che il tenente aveva piantato le tende in casa del fittavolo dove dopo una buona bevuta era rimasto a pernottare Aleksandr Grigorievich tornò a casa solo al mattino del giorno dopo aveva un aspetto oltremodo impacciato e sciupato ho bisogno di parlare un po' con te a quattro occhi e gli disse con fare misterioso al cugino andarono nello studio il tenente chiese l'uscio e prima di mettersi a parlare camminò a lungo da un angolo all'altro è accaduta una cosa tale caro e gli cominciò che non so come dirtela tu non crederai ed egli balbettando arrossendo e senza guardare il cugino raccontò la storia delle cambiali Kulikov a gambe larghe a testa bassa ascoltava e si accigliava tu stai scherzando domandò che scherzare del diavolo che scherzi ci possono essere qui non capisco borbottò Kulikov facendosi di porpora e allargando le braccia questo è perfino immorale da parte tua una donnetta sotto i tuoi occhi fa il diavolo sa che cosa roba da codice penale commette una bassezza e tu ti lasci andare ai baci ma io stesso non so come sia accaduto mi svegliò il tenente battendo gli occhi con aria colpevole parola d'onore non capisco per la prima volta in vita mia mi sono imbattuto in un simile mostro non con la bellezza fa presa non con l'intelligenza ma con quella sfrontatezza capisci col cinismo con la sfrontatezza col cinismo com'è pulito tutto ciò se proprio ti era venuta tanta voglia di sfrontatezza e di cinismo avresti dovuto prendere un maiale dal fango e mangiartelo vivo almeno sarebbe stato più economico qui invece si tratta di 1300 rubli con che con che eleganza ti esprimi fece una smorfia al tenente io te li renderò questi 2300 rubli lo so che me li renderai ma forse che il punto sta nel denaro se ne va dal diavolo quel denaro mi rivolta la tua natura di straccio la tua inconsistenza la tua sconcia pusillanimità fidanzato a una fidanzata non ricordarmi non ricordarmi nemmeno arrossì il tenente io stesso ora provo disgusto sarei pronto a sprofondare sottoterra disgusto e dispetto che ora mi toccherà ricorrere per 5000 rubli alla zia kurikov si indignò e brontolò ancora a lungo poi calmatosi sedette sul sofà e si mise a canzonare il cugino tenenti diceva con l'egionia sprezzante nella voce fidanzati l'antratto balzò su come morsicato pestò il piede e si mise a correre per lo studio io io non la lascerò così presa a dire agitando il pugno riavrò le cambiali le riavrò la farò andare dentro le donne non si battono ma io la sfigurerò di lei non resterà traccia io non sono un tenente me non mi commuoverai con la sfrontatezza e il cinismo no che il diavolo ti scortichi misra gridò corri a dire che mi si attacchi il calessino Kruikov si vestì rapidamente e senza ascoltare il tenente spaventato salì sul calessino fece un gesto risoluto con la mano e si precipitò da Susanna Moiseevna il tenente guardò a lungo dalla finestra la nuvola di polvere che correva dietro il calesse si stirò sbadigliò e se ne andò nella sua stanza di lì a un quarto d'ora dormiva di un sonno profondo dopo le cinque lo destarono e lo chiamarono a pranzo com'è gentile questo da parte di Alexei lo colse in sala da pranzo la cognata si fa aspettare a tavola ma forse non è ancora venuto sbadigliò il tenente probabilmente è passato dal fittavolo ma anche per cena Alexei Ivanovic non tornò sua moglie sua moglie e Solovski conclusero che egli si era attartato a giocare a carte dal fittavolo e che con tutta probabilità sarebbe rimasto a pernottare in casa sua accadde invece una cosa tutta diversa da quella che essi supponevano Kurikov ritornò la mattina del giorno dopo e senza salutare alcuno sgusciò in silenzio nel suo studio beh che c'è bisbigliò il tenente guardandolo con tanto d'occhi Kurikov agitò una mano e sbuffò dalle risa ma che cosa c'è perché ridi Kurikov si buttò sul divano ficcò la testa in un cuscino e fu tutto squassato da uno sghignazzo che gli tratteneva di lì a un minuto si alzò e guardando il tenente meravigliato con gli occhi lacrimanti dal gran ridere si mise a dire tira un po' la portiera beh che donna però ti dico io hai avuto le cambiali Kurikov agitò la mano e tornò a sghignazzare ma che donna proseguì merci fratellino per la conoscenza che mi hai procurato quello è il diavolo in connella arrivo da lei entro sai con una tale aria da giove che ne ho paura io stesso mi ero accidiato avevo per fin stretto i pugni per darmi più importanza signora dico con me gli scherzi sono pericolosi e via su questo tono la minacciai di rivolgermi al tribunale e al governatore lei sulle prime si mise a piangere disse che con te aveva scherzato e mi condusse persino verso l'armadio per consegnarmi il denaro poi si deve dimostrare che il futuro dell'Europa è nelle mani dei russi e dei francesi coprì di insulti le donne io come te drizzai gli orecchi asino che sono tanto ho un panegirico alla mia bellezza mi palpò il braccio vicino alla spalla per vedere quant'ero forte e come vedi solo adesso ho alzato i tacchi da casa sua è entusiasta di te bravo ragazzo si misi a ridere il tenente ammogliato stimato che ti vergogni provi disgusto parlando però for di scherzo fratello avete messo su nel distretto una vostra regina Tamara ma in che distretto del diavolo un altro camaleonte così non lo scoverà in tutta la Russia da che sono al mondo non ho mai visto nulla di simile e non sarei io competente in materia son vissuto mi pare perfino con le streghe ma non ho visto nulla di simile fa presa appunto con la sfrontatezza e il cinismo quel che in lei c'è di attirante sono quei bruschi passaggi quei trapassi di tinte quella diabolica impetuosità brrr ma le cambiali cucù facci sopra la croce noi siamo tutte e due grandi peccatori dividiamo il peccato a mezzo io ti addebito non 2300 rubli ma la metà attento a dire a mia moglie che sono stato dal fittavolo Kruikov e il tenente cacciarono la testa nei cuscini e si misero a sghignazzare sollevarono il capo si guardarono l'un l'altro e ricadevano sui cuscini fidanzati punzecchiava Kruikov tenenti uomini sposati rispondeva Sokolski stimati padri di famiglia a pranzo essi parlavano per allusioni scambiavano strizzatine d'occhio e con meraviglia di quelle di casa sbuffavano di continuo a ridere nei tovaglioli dopo pranzo trovandosi ancora in eccellente stato d'animo si travestirono da turchi e ricorrendosi a vicenda coi fucili rappresentarono scene di guerra per i bambini la sera discussero a lungo il tenente sosteneva che è basso e vile prendere una moglie condote perfino nel caso di un amore appassionato da entrambe le parti kurikov invece picchiava coi pugni sulla tavola e diceva che ciò è un assurdo che il marito contrario a che la moglie abbia dei beni suoi è un egoista e un despota tutte e due gridarono si accalorarono senza capirsi a vicenda bevero egregiamente e alla fin fine raccolte le falde delle loro vesti da camera si separarono andando ciascuno nella propria stanza da letto si addormentarono presto e profondamente la vita tornò a scorrere come prima uguale indolente e spensierata delle ombre si posavano sulla terra fra le nubi rumoreggiava il tuono ogni tanto gemeva lamentoso il vento quasi desiderando mostrare che anche la natura può piangere ma nulla turbava la quiete abituale di quegli uomini di Susanna Moiseyevna e delle cambiali non parlavano erano entrambi come vergognosi di parlare ad alta voce di quella storia in cambio la ricordavano e ci pensavano con piacere come è una farsa curiosa che in modo inatteso e casuale la vita aveva recitato con loro e di cui sarebbe stato gradito rammentarsi in vecchiaia il sesto settimo giorno dopo l'incontro con l'ebrea Kurikov stava seduto una mattina nel suo studio e scriveva una lettera di auguri alla zia vicino alla tavola andava cioè giù in silenzio Aleksandr Grigorievich il tenente aveva dormito male si era svegliato di cattivo umore e adesso si annoiava camminava e pensava alla sua licenza che scadeva alla fidanzata che lo aspettava e si domandava come mai la gente non si annoia a passare tutta la vita in campagna fermatosi davanti a una finestra guardò a lungo gli alberi fumò una dopo l'altra tre sigarette e ad un tratto si voltò verso il cugino io Agliosha ho da farti una preghiera disse prestami per oggi il tuo cavallo da sella Kurikov lo guardò con aria scrutatrice e accigliatosi continuò a scrivere e così me lo darai domandò il tenente Kurikov tornò a guardarlo poi aprì lentamente un cassetto della scrivania e cavato di là un grosso mazzo di biglietti lo porse al cugino eccoti cinquemila rubli disse benché non siano miei che Dio ti assista fa lo stesso ti consiglio di mandar subito una vettura di posta e partire davvero il tenente a sua volta guardò con occhio scrutatore Kurikov e a un tratto si mise a ridere tu hai proprio indovinato Agliosha disse arrossendo volevo appunto andare da lei appena la lavandaia ieri sera mi ebbe consegnato questa maledetta tunica che portavo quel giorno ed ebbe sentito d'ordige il somino subito mi sentì a tratto la devi partire sì infatti a proposito è anche ormai finita la licenza in verità partirò oggi Dio mio per quanto si vive sempre tocca partire me ne andrò quello stesso giorno prima di pranzo fu fatta venire una vettura di posta il tenente si accomiatò dai Kurikov e accompagnato da auguri di ogni bene partì passò un'altra settimana era una giornata fosca ma calda e affosa fin dal mattino presto Kurikov aveva girato senza scopo per le stanze gettando occhiate dalle finestre oppure aveva sfogliato degli albi di fotografie già da un pezzo venuti gli annoia quando gli capitavano sotto gli occhi la moglie o i bambini cominciava a brontolare irritato quel giorno chissà perché gli sembrava che i bambini si comportassero in modo rivoltante che la moglie sorvegliasse male la sorvitù che non si regolassero le spese sulle entrate tutto ciò significava che il signore non era di buon umore dopo pranzo Kurikov scontento della minestra e dell'arrosto ordinò di attaccare il calessino uscì lentamente dal cortile percorse quattro verste al passo e si fermò e se passassi da quella da quel diavolo pensò guardando il cielo fosco e Kurikov si mise perfino a ridere come se per la prima volta in tutto quel giorno si fosse rivolto questa domanda subito dal cuore gli dileguò la noia e nei suoi occhi indolenti brillò il piacere e gli frustò il cavallo per tutta la strada l'immaginazione gli dipinse come l'ebrea si sarebbe meravigliata del suo arrivo come gli avrebbe riso un poco chiacchierato un poco e sarebbe tornato a casa rinfrescato una volta al mese bisogna rinfrescarsi in qualche modo insolito pensava in un modo tale che dia all'organismo intorpidito una buona scossa una reazione sia magari una bevuta sia magari Susanna non si può farne a meno già imbruniva quando egli entrò nel cortile della fabbrica di vodka dalle finestre aperte della casa padronale giungevano risate e un canto la rodente più del fulmine rovente più della fiamma cantavano forte profonda voce di basso ah ah ha degli ospiti pensò Kruikov e gli riusì sgradito che avesse degli ospiti se tornassi indietro pensava accingendosi a suonare il campanello ma tuttavia sonò e andò su per la nota a scala dall'anticamera gettò un'occhiata in sala c'erano là cinque uomini tutti possidenti e pubblici impiegati di conoscenza uno alto e scarno seduto al pianoforte picchiava con le lunghe dita sui tasti e cantava gli altri ascoltavano e scoprivano i denti dal piacere Kruikov si guardò attorno davanti allo specchio e stava già per entrare in sala quando piombò in anticamera Susanna Moiseyevna in persona allegra con quello stesso vestito nero indosso veduto Kruikov per un attimo restò di sasso poi gettò un grido e si fece raggianti di gioia siete voi disse afferrandogli la mano che sorpresa ah eccola disse Kruikov prendendola per la vita e così le sorti dell'Europa si trovano nelle mani dei russi e dei francesi sono così contenta si mise a ridere l'ebrea scostandogli cautamente il braccio beh andate in sala là è tutta gente di conoscenza io andrò a dire che vi servono il tè voi vi chiamate Alexei beh andate io verrà subito ella lo salutò con la mano e corse via dall'anticamera lasciando dietro a sé quello stesso stucchevole dolciastro odore di gelsomino Kruikov alzò il capo ed entrò in sala egli era in amichevoli rapporti con quanti si trovavano là ma fece loro appena un cenno del capo essi pure gli risposero appena come se il luogo dove si erano incontrati fosse indecente o avessero mentalmente convenuto che per loro era più comodo non riconoscersi a vicenda dalla sala Kruikov passò in salotto e di lì in un altro salotto per via si imbatté in tre o quattro ospiti che conosceva del pari ma chiama la pena lo riconobbero i loro visi erano ebbre e allegri Alexei Ivanovic li guardava in tralice e pensava perplesso come mai essi uomini di famiglia stimati provati dal dolore e dal bisogno potessero abbassarsi a una così miserevole meschina allegria egli si stringeva nelle spalle sorrideva e andava oltre ci sono dei posti pensava dove chi non ha bevuto sente nausea mentre l'ubriaco si alleta il cuore ricordo che all'operetta ed agli zigani io non sono mai andato senza aver bevuto il vino rende l'uomo più buono e lo riconcilia col vizio a un tratto gli si fermò come inchiodato e con tutte e due le mani si afferrò allo stipite dell'uscio nello studio di Susanna stava seduto alla scrivania il tenente Aleksandr Grigolievich e gli discorreva di qualcosa a bassa voce con un ebreo grasso flaccido ma veduto il cugino si fece di fiamma e abbassò gli occhi su un albo il sentimento dell'onoratezza si riscosse in Kruikov e il sangue gli salì al capo fuori di sé dallo stupore dalla vergogna e dalla collera egli fece un giro in silenzio davanti alla scrivania Sokolski abbassò la testa anche di più il suo viso si storse in un'espressione di tormentosa vergogna ah sei tu Aglioscia pronunciò egli sforzandosi ad alzar gli occhi e a sorridere son passato di qua a congedarmi come vedi ma domani partirò di sicuro beh che posso dirgli che cosa pensava Alexia Ivanovic che giudice posso essere per lui se io stesso sono qui e senza aver detto nemmeno una parola e solo raschiando un po' uscì lentamente non chiamarla celestiale e non toglierla alla terra cantava in sala la voce di basso poco dopo il calessino di Kruikov già picchiava con le ruote sulla strada polverosa fine bene